E va bene, allora né 7 né 12 ma 25 però minuti e non secondi vi chiedo a partire dalle 4 meno 7 minuti. E insomma io temo di che volerò molto più basso e come peraltro ha già fatto il professor Canova questa mattina mi baserò subito sulla mia esperienza personale. In compenso ascoltando gli interventi che mi hanno preceduto ho scoperto che alcune cose, insomma ho sentito delle risonanze su alcune delle cose che avrei detto per cui in sostanza vi dico delle cose che avete già sentito però in compenso ve le dico peggio e vi accontenterete. E volevo incominciare con Fuoco a mare, il film di Gianfranco Rosi dove c'è un ragazzino Samuele che a un certo punto è protagonista praticamente del film ma a un certo punto sta sfogliando, lo si vede mentre sta sfogliando un libro che sembra un libro di scuola molto velocemente e sta borbottando, non è che mai si capisca molto bene quello che dica perché è soprattutto dialettofono ma sta borbottando in una specie di gramlo, una lingua incomprensibile e alla fine chiude il libro e dice inglese finiu e questa scena per me, ovviamente non sappiamo poi che voto avrebbe preso nella verifica e il film ci lascia a questa sua autovalutazione che è sommaria ma anche genuina. Questa figura di Samuele io poi l'ho accostata a quella di una mia studentessa che nell'imminenza di un esame nell'ultima sessione di esami mi ha scritto per email Salve professore, ho delle difficoltà con l'analisi semiotica del brano letterario richiesta per l'esame ho seguito il corso, ho studiato il manuale, ho visto gli esempi di analisi che avete messo nel sito della community ma non ho capito cosa devo fare. e anche questa è meno sommaria e meno genuina ma anche questa è certamente una autovalutazione e qui il problema non sono tanto i dubbi che la ragazza esprime quanto la certezza, è la certezza che collima esattamente con quella di Samuele cioè la certezza di avere studiato abbastanza non è venuto in mente a nessuno ma è più grave con la mia studentessa soprattutto perché appunto è mia, ha studiato con me il fatto che la misura di questo abbastanza che poi è la sufficienza da raggiungere come si dice il lessico scolastico non è esterna allo studio cioè non dipende per esempio dal numero di crediti formativi dalle ore di studio o l'ammontare dato per quel corso è interna ovviamente hai studiato abbastanza quando sai come si fa l'analisi semiotica di un breve paragrafo letterario allora le ho risposto, le ho detto di venire pure a riservimento ma nel frattempo le ho risposto con una domanda le ho anche chiesto ma secondo lei cosa dovrebbe fare di più l'università oltre che organizzare dei corsi dare delle indicazioni fornire materiale di studio teorico fornire delle applicazioni e tutto quello che si fa qui ovviamente per dire questo ho dovuto prima compiere un'autovalutazione ho dovuto pensare se effettivamente il corso di semiotica aveva fornito gli strumenti per passare all'esame e però questa è già a questo punto una perversione di quello che insomma anche un po' banalmente dovrebbe essere il normale andamento delle cose cioè il rapporto didattico diretto quello che io personalmente ho vissuto prima da discente poi da genitore di discenti e infine da docente e questo rapporto prevede che ci sia una materia di studio adesso la dico in una maniera semioticamente molto brutale però c'è qualcuno che la insegna qui insomma si intende ovviamente non il versare appunto del liquido in un vaso vuoto ma per intenderci c'è qualcuno che la impara e l'esame è il momento in cui chi l'ha insegnata capisce se è stata assimilata appunto a sufficienza dal discente cioè ci possiamo poi aggiungere molti fronzoli ce li aggiungiamo ma la cosa è così il rapporto didattico perverso invece è quello che procede a ritroso cioè procede dall'esame e ogni atto che è compiuto è vissuto in funzione dell'esame e quindi ciò di cui io poi ho parlato in aula non è tanto la semiotica quanto il modo di passare l'esame di semiotica ora io non voglio sostenere che questa sia lo è sicuramente almeno in parte funzione una caratteristica diciamo della contingenza corrente dell'attualità la contingenza corrente ha i suoi insomma ne fa qualcosa ma mi ricordo benissimo che ai miei tempi quanto compiangevo certi colleghi studenti di giurisprudenza che diceva oioioi oioi tra due mesi ho un esame da 1200 pagine e io ridevo perché mi facevo veramente compassione non pensavo che la dea Nemegi avrebbe fatto in modo che lo stesso mio lavoro sarebbe stato poi valutato con parametri essenzialmente quantitativi ma c'è una cosa che poi è peculiare della Iulme per il tipo di materie che insegniamo che istituzionalmente noi siamo portati comunque dobbiamo anche insegnare in qualche modo il modo per passare il nostro esame e non solo fuori dalla lezione quando riceviamo studenti e quando insomma mettiamo in community io per esempio metto in community i consigli su come studiare semiotica perché insegno al primo anno e mi rendo conto che non soltanto i ragazzi non hanno idea di cosa sia questa materia ma non si sono neanche non hanno neanche ben capito la differenza tra lo studio liceale e quello che invece gli è richiesto all'università ma mi riferisco al fatto che molte delle materie che insegniamo cioè marketing, pubblicità, cinema sono materie in cui a qualche titolo prima o poi si impone il problema anche del del successo la questione di come si faccia a ottenerlo e dunque di come si affronti la valutazione del pubblico e in semiotica anche in semiotica succede questo parliamo di come di come si riesce a fare qualcosa abbiamo una specie di modellino che secondo noi funziona per sotto ogni narrazione e secondo noi poi significa vuol dire che succede praticamente in qualsiasi situazione e si chiama schema narrativo canonico e il presupposto è che in ogni storia ogni storia incomincia con una mancanza e un oggetto da c'è un soggetto che vuole congiungersi a un oggetto di valore per esempio lo studente all'inizio della sua storia universitaria si vuole congiungere con qualcosa ora cos'è questo qualcosa può essere per esempio idealmente la materia che va a studiare ma cambia qualcosa se invece il il suo oggetto di valore è il titolo di studio e con qui agiscono poi due diverse retoriche collegate al modo di dire il pezzo di carta c'è la retorica che dice non devi studiare per il pezzo di carta devi studiare per te stesso e la retorica che dice prenditi un pezzo di carta che può sempre servire a qualcosa ora lo schema semiotico dice che ci sono quattro fasi la prima fase è quella in cui qualcuno assegna un valore a un oggetto c'è una vecchia intervista forse l'ultima televisiva a Carlo Emilio Gadda in cui l'intervistatrice gli chiede ragioni del fatto che lui è ingegnere avendo fin da ragazzo avuto dei grossi interessi per la filosofia e per la letteratura e lui risponde no c'era una famiglia c'era un ingegnere allora io ho dovuto studiare ingegneria già ancora maledendo 80 anni i suoi ascendenti e qui il mandante accadeva soprattutto ai tempi di Gadda accade in parte ancora oggi è una tradizione familiare ma il mandante può essere anche nulla esclude che il mandante sia se stesso quando uno sceglie di fare quello che vuole nella seconda fase incontriamo una parola che qui è stata molto ripetuta anche molto criticata che è competenza la uso in termini strettamente semiotici dentro la competenza poi la semiotica dei modi per specificare poi le diverso quello che si può intendere ma la competenza è ciò che serve in questo senso per affrontare degli adempimenti e congiungersi quindi all'oggetto ed è tipicamente richiede tanti altri piccoli programmi narrativi no all'università si deve iscrivere deve prendere le e poi deve fare i diversi esami e quindi in ognuno di queste agli esami per esempio il singolo docente può decidere di essere un aiutante o di essere neutro oppure addirittura di essere un ostacolo la terza fase la terza fase qui si parla la tua nobilità la performanza dove appunto si raggiunge o meno questo oggetto e la quarta è quella a cui noi stiamo dedicando un convegno noi la chiamiamo in semiotica sanzione bisogna sempre spiegare agli studenti che questa sanzione non è negativa noi per sanzione pensiamo alla multa però invece sanzione è un termine che può essere anche positivo come quando si dice il gol sancì la superiorità di una squadra sull'altra ora quando spiego questa parte del programma faccio sempre riferimento all'esperienza universitaria che il mio auditorio sta incominciando a compiere e faccio riferimento anche al fatto che appunto tutta questa storia cambia molto a seconda della scelta dell'oggetto di valore e io non sono il mandante primo quello che assegna il valore all'oggetto io a lezione è quello che cerco di fare di dare valore all'oggetto che è la materia di studio ma quando loro hanno già deciso che il problema è passare un esame che ha una fama ampiamente esagerata di esame difficilissimo io la battaglia a quel punto diventiamo opponenti l'uno con l'altro cioè io devo cercare di non far passare all'esame chi la simbiotica non la sa e molti di loro non certo tutti cercano invece di passarla senza porsi il problema del sapere ora chi è che gliel'ha detto di fare così qual è il mandante qui chiaramente c'è una c'è una questione una questione sotto che può anche insomma può anche portare il discorso a uno sfogo a uno sfogo vero e proprio e non vorrei arrivare a quello però devo dire che più in generale aprendo un attimo il discorso la sensazione più spiacevole che io penso non soltanto io ho facendo questo mestiere è il tributo che insomma tra l'altro con sempre maggiore frequenza mi sento di dover pagare a una specie di gioco di ruolo una simulazione collettiva in cui quello che faccio effettivamente il mandato che cerco di svolgere deve come travisarsi in in qualcos'altro fino a generare effetti di grottesco quando passo molto tempo a compilare moduli quando ricevo comunicazione da parte di colleghi preposti a delle commissioni che mi convincono che è necessario che io faccia delle cose che non so neanche cosa siano quando cerco di adeguarmi a dei parametri che sono stati calcolati in un modo che è stato stabilito da qualcuno che non ne sa nulla ma non ne sa nulla non perché non ne vuole sapere nulla ma perché non ne può sapere nulla deve non saperne nulla e capisco che il mio oggetto personale di valore appunto deve essere travestito deve cercare di contrabbandarlo e quando capita a me di dover stabilire dei parametri numerici ultima esperienza ieri pomeriggio in commissione di tesi e soprattutto quando lo si fa per le tesi quindi quando si è assieme ai colleghi e lì la sensazione di essere dentro al gioco di ruolo è una sensazione di forte imbarazzo e penso abbastanza comune poi la si risolve perché Emma mi pare che adesso non ci sia più per la stupidità dei numeri cioè per il fatto che comunque quando si arriva a un 24 o a un 91 nessuno può ricostruire la storia che c'è dietro la storia o la storiella o la barzelletta e la sanzione è fatta ma questo numero molto spesso è prodotto da una media statistica che ognuno di noi poi elabora per conto suo tra la sanzione ideale e quella ispirata dal dal realismo ma ne stiamo parlando e quindi da questo gioco di ruolo dobbiamo siamo chiamati a uscire quindi siamo chiamati anche a chiederci chi sia quel mandante perverso e qui come come è già stato fatto bisogna rovesciare il ragionamento lo è stato fatto subito nella interessantissima relazione inaugurale di Matteo Turri è possibile pensare a un modello di università in cui sia garantita la motivazione allo studio in cui dunque l'esame arrivi veramente come momento finale di un processo di cui non è il fulcro si è possibile esiste sono le cosiddette scuole di eccellenza con appunto ammissione a numero chiuso classi con un numero ridotto di studenti carichi di lavoro continui durante l'anno e obbligo di tenere una media alta anche questo non è esente dalla stupidità dei numeri però la riduce e gli dà un po' di senso proprio perché appunto si può lavorare su classi dimensionalmente adeguate a una didattica avanzata però è un modello completamente incompatibile con quello dell'università di massa e non parliamo dell'altra università quella sopra il 50% che comunque è un'università di massa a cui io sono affezionato e che considero una conquista da difendere nell'unico modo in cui si può fare cioè migliorandola l'incompatibilità penso che sia dimostrata quando si cerca di appunto di adottare dispositivi di eccellenza a livelli di unità di massa test di ammissione a medicina sono cose che diventano le sorte di riffe borghesiane completamente avulse dal merito della questione in cui appunto l'oggetto di valore viene addirittura ulteriormente distanziato quindi ciò che rende ingarbugliata la questione è proprio la dimensione della della massa e questo implica necessariamente spostare la questione della valutazione da un ambito accademico a un ambito più generalmente sociale nel senso che l'università non può pretendere di essere autonoma dalla società pur dovendo dovendosene difendere in qualche modo ci sono proprio delle cose anche qui la mia esperienza personale proprio banalmente mi scolpisce sempre quanto gli studenti si stupiscano non appena metti un paletto che fuori dall'università non c'è adesso l'esempio è veramente terra terra però io penso spesso allo studente che entrò a un esame scritto peraltro con dieci minuti di ritardo io non lo accettai e lui prima che arrabbiato era veramente stupefatto e mi ha detto prof per cinque minuti di ritardo e gli ha detto i cinque minuti sono dieci gli altri hanno già cominciato ritorni la prossima volta non è un dramma e poi però ho anche pensato che in effetti le ferrovie dello Stato cinque minuti di ritardo non li considera cioè quando un treno è in ritardo di un quarto d'ora mettono in ritardo dieci minuti e quando un treno è in ritardo di cinque minuti il treno è in orario quindi lui secondo lui era in cinque minuti di ritardo perché applicava gli stessi parametri delle ferrovie dello Stato perché cinque comunque non contano sono scontati e gli altri cinque era la sua reale mancanza e io ogni tanto vengo preso da questi principi ho detto no e lui però era veramente stupefatto e quando l'università pone qualcosa di proprio un limite lì si sente una frizione ora questo riguarda anche il tema della valutazione che evidentemente è un tema critico e uso la parola critica proprio perché in crisi innanzitutto lo statuto della critica nella nostra società si dice c'è un luogo comune che dice facile criticare e in effetti chi si addentra nei territori della valutazione nel discorso sociale normalmente non ha successo se non nella forma della stroncatura nella forma dei polemisti accesi e in semiotica abbiamo un altro piccolo strumento che si chiama presupposizione quella cosa per cui io dico per favore chiudi la finestra io sto affermando questo ma sto presupponendo che la finestra sia chiusa ho detto chiudi che sia aperta e questo lo presupponerei anche se dicessi no 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 non chiudere la finestra vuol dire che appunto la finestra è aperta se io dico chiudi la finestra la finestra è già chiusa c'è un problema no? non sto sbagliando sto usando il linguaggio in un modo sconcertante il l'esempio che si fa sempre per spiegare la presupposizione è il rapporto tra critica e accusa la differenza tra accusa e critica cioè nell'accusa si presuppone quello che nella critica si afferma cioè ti accuso di aver ucciso tuo padre uccidere il padre o chiunque altro presuppongo che sia male e affermo che tu l'abbia fatto se io dico ti critico per l'atteggiamento che è nei confronti di tuo padre sto dicendo sto presupponendo che tu abbia quell'atteggiamento e sto affermando che questo atteggiamento è sbagliato mi pare che nella nostra società la cosa che la critica funziona soltanto quando si ribalta in accusa no? e d'altra parte i mass media funzionano per personalizzazione la televisione in particolare e questa è una forma di personalizzazione un attacco alla persona e non più una critica alla cosa perché la critica alla cosa è lunga faticosa e poco poco mediale e a pensarci anche tutto il dibattito sulla post verità il dibattito terribile sui dei 600 docenti sulla lingua italiana una roba che io non condivido minimamente sono dibattiti attraversati dallo spettro opaco della valutazione la proposta dei 600 colleghi la parse construence diciamo era una moltiplicazione dei livelli di valutazione di verifica in classe e ora da una parte abbiamo appunto questa attitudine accusatoria da parte della nostra società e dall'altra parte abbiamo la nostra necessità diciamo deontologica di offrire livelli lo dico a livello qualitativo non certo quantitativo o minimi di decenza diciamo nell'offerta didattica e queste due necessità finiscono per produrre qualcosa che anche insomma comincia a avere qualche forma di autoritarismo appunto la servitù dei questionari dei moduli da compilare delle mediane da rispettare perché? perché lo vuole il ministero così come perché non mettiamo l'apostrofo tra quale è perché lo vuole il professore ora quello che viene sottoposto a questo tipo di valutazioni non è università di volta in volta non è ricerca e non è neanche lingua italiana questo è appunto il gioco di ruolo quelle che propriamente si possono chiamare didattiche ricerca sono attività esterne al circuito valutativo ufficiale e alle logiche quantitative e non è solo però per motivi logistici che un'università discretamente di massa non può permettersi di superare un certo livello di rigore di severità nelle sue valutazioni perché oltre a quel livello sarebbe come raccontare agli studenti un mondo che non è quello reale per me tutto questo è simboleggiato da un dispositivo che è il questionario a crocette che io ho incontrato nella mia vita su peanuts perché più per i tapetti deve riempire le cose a crocette nella mia formazione l'ho incontrato soltanto per volerla chiamare così nei test della patente e in quelli attitudinali del servizio militare e fino all'anno scorso quando ho dovuto racimolare i punti necessari per la formazione continua dei giornalisti e ci sono dei questionari a crocette non sto per carità di patria a dire cosa ne ho ricavato ma quello che ne ho ricavato è soprattutto su quella metodologia di valutazione che devo usare anch'io perché io qui ho 600 studenti quindi 600 esami che sono di più perché poi molti devono ripetere per quanto io cerchi di non essere troppo severo e uso anche in parte lo strumento delle multiple choice ma so che lì sotto aleggia lo spirito appunto della lotteria di di Babilonia ora io mi piacerebbe finire dicendo appunto con un paragrafo intitolato per una nuova concezione della valutazione non so se sia possibile certo non è possibile a me la cosa che posso fare è elencare un po' di punti che che io concludo tratti dalla mia esperienza poi soprattutto di valutatore e di valutato cose a cui credo ma su cui molte delle quali su molte delle quali mi piacerebbe invece cambiare idea non sono per niente contento di pensarla così in Italia la meritocrazia è il rifugio dei lestofanti la parola significa nell'etimo governo dei meritevoli il che è appunto abbastanza banale ma per certi versi è anche inquietante bisogna decidere se il merito è o non è oggetto di ingegneria gestionale o psicologia cognitiva o logica formale per conto mio anche aiutato in questo dalle esperienze di alcuni governi tecnici o esperienze analoghe della nostra società ogni volta qualcuno mi parla di meritocrazia gli chiedo subito il curriculum e imparo tantissime cose valutare è umano anche perché appunto prima del valutare è rare lo è ma soprattutto perché solo la sanzione dopo la performance questo ci insegna la semiotica generativa permette il cambiamento di status dei soggetti e vale per le fiabe vale per le narrazioni vale per la daratologia e vale anche per l'università e nella vita di tutti i giorni è proprio la costruzione culturale della nostra vita sociale che lo richiede come passaggio necessario come nella 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 educazione fra genitori e figli come nella pedagogia fra docenti e discenti come nei rapporti gerarchici negli ambiti di lavoro ovunque la relazione la valutazione è una relazione ed è un processo sempre bidirezionale e reciproco non è mai eminentemente oggettiva né mai eminentemente soggettiva è sempre relazionale e io non so naturalmente se gli ispettori che abbiamo ospitato l'anno scorso se a loro sia venuto qualche dubbio sul loro lavoro mentre si formavano le loro certezze sul nostro ma so che io non esco mai da una sessione d'esame o da una seduta di tesi senza ricavarne qualche osservazione su come mi sono comportato io l'università dovrebbe sapere che il suo statuto di luogo di didattica e ricerca non è a riparo dal sospetto di essere vissuta come un diplomificio e o si è elitari in tutto e per tutto o occorre sopportare che una quota di studenti in modo magari parziale e limitato da alcuni settori consideri appunto il pezzo di carta come l'unico oggetto di valore da perseguire ma del resto del modo in cui una quota di docenti considera il pur magro stipendio ma questo non implica che all'interno delle relazioni didattiche della vita universitaria non si possano costruire e delimitare spazi in cui l'università è davvero e soltanto se stessa dipenderà da bravura e carisma del docente passione e interesse del singolo studente ma anche da un po' di gioco lasciato con intelligenza dalla struttura tra le maglie rigide degli obblighi istituzionali e infine sesto l'università di massa non si può astrarre dalla vita sociale e da come la società stessa valuta l'università perché è anche di questo che stiamo parlando ma può ambire essere nel suo complesso un'esperienza sensibilmente percepibilmente anomala tra quelle che lo studente ha vissuto quelle che vivrà e quelle che vive fuori da questi spazi seppure non ne colga pienamente il senso abbia almeno il sentore che qui i pezzi di carta che dobbiamo erogare quelli sì sono la moneta una moneta che ha un valore solo nominale e che sta per qualcos'altro e questa seconda cosa innominata di tanto in tanto può attraversare i cieli solo di posti come questo grazie grazie